Una presentazione sobria ma ricca di entusiasmo in casa nocerina con i molossi che ieri pomeriggio hanno ricevuto il primo vero abbraccio dai tifosi presenti in gran numero allo stadio San Francesco. Prima dell'amichevole disputata contro la Turris, terminata con un pareggio per uno a uno, i calciatori rossoniri sono stati presentati al pubblico sotto la conduzione della giornalista Nicol Ferrigno. Tra gli interventi più importanti della cerimonia vanno sottolineate le parole d'amore verso la maglia molossa di Capitan Garofalo, i saluti istituzionali del vice sindaco di Nocera Inferiore Umberto Iannotti e per finire l'entusiasmo trasmesso dal patron Giancarlo Natale presente insieme al socio Raffaele Scalzi. Inoltre la cerimonia di presentazione della Rosa è stata l'occasione per far conoscere ai supporters di casa Kevin Magri, difensore centrale ex campo basso, ingaggiato nelle ultime ore. L'amichevole di prestigio tra Molossi e Corallini inizia con la squadra di casa immediatamente sugli scudi. Al settimo Valentini supera in vernizi con un dribbling secco, rientra sul sinistro e crossa per Scaringella che di testa mette il pallone alto. Dopo una lunga fase di stallo in cui le due squadre si studiano e cercano di abbozzare qualche schema, la gara si infiamma. Al minuto 29 Santanillo si beve Calel con un colpo di tacco e mette dentro per Ercolano, il cui tiro a botta sicura viene respinto da un grande stragos. Sul conseguente corner Frascatore irrompe di testa e porta in vantaggio la Turris. Non c'è neanche il tempo di esultare per i Corallini che la Nocerina agguanta subito il pareggio al termine di un'azione manovarata nell'area avversaria. Mancino approfitta di un rimpallo a favore e scarica un diagonale rasoterra che si insacca nell'angolino alla destra di Perina. Il primo tempo si chiude con un bel tiro a giro di Valentini che finisce di poco sopra la traversa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La ripresa vede la Nocerina molto più vogliosa rispetto ai Corallini. Dopo pochi minuti Scaringella viene pescato in aria da un bel passaggio ma il suo diagonale termina fin troppo largo. Da questo momento la sfida diventa povera di emozioni e mister Sannino approfitta per inserire quasi tutte le seconde linee. All'ottantesimo bel segnale di Nocerina con Mincica che accelera, penetra in aria e scarica un bolide che si infrangia sul palo. Con questa azione complice anche alla mancanza di illuminazione dei fari la fine del match viene anticipata dal minuto numero 81. Il pareggio di quest'oggi e le discrete trame di gioco mostrate da parte dei Molossi lasciano ben sperare in vista dei primi impegni ufficiali.